Noi abbiamo chiesto i nomi, Renzi i nomi non li ha voluti fare e allora a questo punto i nomi li abbiamo chiesti al Partito Democratico nella sua totalità per vedere se c'è qualcuno nel Partito Democratico che ha voglia di stilare una lista di nomi da mettere in luce in modo trasparente in modo che il Movimento 5 Stelle e tutti gli italiani possano verificare il futuro Presidente della Repubblica che è di tutti.